Tutti a bordo è stato il titolo scelto per la giornata regionale della donazione del sangue che si è svolta non a caso all'Accademia Navale di Livorno e che è stata l'occasione per illustrare la gara di cui la Toscana è capofila insieme a Campania, Lazio, Marche e Molise per la plasma lavorazione, un progetto che ha coinvolto anche l'Ispettorato Generale della Sanità Militare realizzato tramite l'Estar per 200 milioni di euro, privilegiando la qualità rispetto al prezzo con un risparmio di 8 milioni all'anno, 3 milioni e 300 mila per la Toscana. Sicuramente porterà un contributo nell'uniformare, nell'omogeneizzare le procedure e i percorsi di tutte queste 5 grandi regioni. L'assessore Saccardi e la responsabile del centro regionale del sangue Simona Carli hanno spiegato alla platea, in cui si è seduto alla sua prima uscita pubblica anche il neoeletto sindaco di Livorno Luca Salvetti, gli obiettivi della strategia congiunta tra regioni che mirano a migliorare il sistema trasfusionale e a sensibilizzare alle donazioni, calate in Toscana dell'1,4% rispetto al 2017. Il problema grosso in Toscana, come in tutta Italia, è l'invecchiamento della popolazione. Sono più i donatori settantenni che smettono di donare dei diciottenni che entrano, quindi questo è quello su cui dobbiamo lavorare. Anche per questo è stata sottolineata l'importanza delle donazioni e anche del plasma per il valore dei prodotti che ne derivano. Si parla di farmaci, si parla di trasfusioni, si parla di emazie, quindi ormai il sangue è uno degli elementi di cura dei pazienti del sistema sanitario, uno dei più importanti. Ai partecipanti ha mandato un videomessaggio di saluto anche l'ex CT della Nazionale Italiana di Calcio, Marcello Lippi, ricordando a tutti, a partire dai tanti volontari presenti, l'importanza di fare squadra anche in materia di donazioni del sangue. Grazie a tutti.